Buona serata, nuova edizione del tv giornale di Telestense, anche in questo appuntamento vi aggiorneremo sulle ultime notizie legate al coronavirus, ma ci occuperemo anche di case popolari presentandovi il nuovo regolamento del comune di Ferrara, ci occuperemo di idrovia perché a metà marzo arriverà un nuovo ponte sul Po di Volano e poi vi anticiperemo i dettagli sulla SPAL, non è ancora ufficiale ma pare appunto che la partita Parma-SPAL verrà recuperata lunedì prossimo 9 marzo alle ore 18.30. Cominciamo però come dicevo in apertura parlando di coronavirus, ancora nessun caso positivo a Ferrara, una trentina le persone seguite ma non in isolamento dall'azienda USL di Ferrara, invece quelle che avevano partecipato la serata del 22 febbraio alla discoteca Le Grotte di San Pietro in Casale. Intanto in regione si alza il numero dei contagiati, la metà di loro, lo ricordiamo, si cura nella propria abitazione ma purtroppo sale anche il numero dei morti che ora sono in totale 18. Vediamo il servizio. Afferrare nella provincia estense ancora nessun caso di coronavirus. Fino a martedì 3 marzo dei 62 tamponi eseguiti di cui 5 proprio in queste ore 57 hanno dato esito negativo mentre per altri 5 si sta attendendo la risposta. Ad oggi in città e nella provincia estense sono 39 le persone in isolamento, 84 in sorveglianza mentre per altre 75 persone la sorveglianza si è conclusa, 4 invece ricoveri in ospedale, 3 al nuovo Sant'Anna di Cona e 1 a Santissima annunziata di 100. 29 le persone seguite telefonicamente ma non in isolamento. Si tratta dei ferraresi che hanno frequentato la discoteca Le Grotte di San Pietro in Casale lo scorso 22 febbraio alla festa di carnevale. Aveva partecipato anche un bolognese, risultato essere poi positivo al coronavirus e ora in isolamento fiduciario. In Emilia Romagna intanto il numero dei casi positivi registrati sono 420 alla luce dei quasi 1778 test tampone refertati. 256 sono a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Eviglia, 33 a Modena, 6 a Bologna, 24 a Rimini, 1 a Forlice Sena, 2 a Ravenna. Sale purtroppo ancora il numero dei decessi, complessivamente 18 le persone decedute in Emilia Romagna, 7 in più rispetto al lunedì pomeriggio, tutte con patologie pregresse. Tra questi due donne, una di 70 anni della provincia di Parma, deceduta all'ospedale di Vaio in provincia di Parma, la seconda, ultra 85enne Lombarda, deceduta all'ospedale di Piacenza. Sono 5 gli altri morti registrati al nosocomio di Piacenza, 4 piacentini, rispettivamente di 91, 80, 86, 77 anni e un lodigiano di 77 anni. I nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, si trovano in condizioni non gravi. Sono molti i casi asintomatici o con sintomi modesti e 187 le persone in cura a casa, dove si trovano in isolamento. Sale invece a 24 il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Intanto il sistema sanitario dell'Emilia Romagna regge bene. A dirlo è Raffaele Donini, il nuovo assessore alla salute della Regione, che ha parlato anche delle misure che si stanno adottando, ricordando che la metà delle persone contagiate si sta curando a casa e molti in isolamento fiduciario. Sentiamo. Il sistema sanitario regionale regge bene. È ancora presto per prefigurare un trend strutturato, ma negli ultimi tre giorni i nuovi casi che registriamo nelle 24 ore sono in calo rispetto alle precedenti. Così il nuovo assessore alla salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, rispetto all'emergenza coronavirus. La metà dei positivi sono comunque a loro domicilio, il 49%, e tra quelli ospedalizzati il 5% sono in terapia intensiva. Ci stiamo attrezzando ovviamente, essendo che il 63% dei casi di positività risiede nel territorio piacentino, al quale esprimiamo grande vicinanza, solidarietà attiva e unità di intenti per combattere questa situazione. Stiamo intervenendo con un'intensificazione e un ampliamento dei posti in terapia intensiva nel piacentino. Ad oggi quindi non c'è nessuna criticità del sistema sanitario regionale che sta reggendo bene sia nella parte del reparto infettivi sia per quello che riguarda la terapia intensiva. I dati della Regione confermano che la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive si trovano in condizioni non gravi, molti casi asintomatici e con sintomi modesti e si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni. L'isolamento volontario è affidato non solo alla responsabilità di ciascuno che a noi risulta massima ma è anche affidato a due controlli al giorno anche per sincerarsi dell'evoluzione della situazione clinica del paziente che svolge al proprio domicilio questa fase di isolamento volontario e affidato anche a controlli a campione dei NAS. Dovessero comparire sintomi che possono essere anche banalmente quelli dell'influenza ma che uno possa pensare riconducibili a questo tipo di patologia, non recarsi al pronto soccorso, magari non recarsi neanche in farmacia, telefonare al 118, contattare il proprio medico di medicina generale i quali sanno benissimo cosa fare, c'è una analisi clinica anche del paziente, in caso di far bisogno si può fare il tampone presso il domicilio e in caso di ricovero in ospedale presso il reparto di malattie infattive tutto avviene in assoluta sicurezza per il paziente, per i familiari del paziente, per i cittadini che gli stanno attorno e anche per i medici, per il personale medico sanitario. E di informare correttamente i cittadini sull'utilità di mascherine gel disinfettanti è anche l'obiettivo che si sono poste le farmacie comunali. Ce ne ha parlato oggi il direttore Michele Balboni con cui abbiamo fatto il punto della situazione. La mascherina va indossata in una determinata maniera affinché sia utile e serve a malati e agli operatori sanitari che hanno a che fare con pazienti. A comunicarlo, interpellato da Telestense, è il direttore delle farmacie comunali Michele Balboni con cui abbiamo fatto il punto sulle attuali richieste della cittadinanza da quando i casi di coronavirus sono arrivati anche in Italia. La gente, sottolinea il direttore, non si presenta più in maniera affollata nelle farmacie come nei primi giorni. Questo perché abbiamo fornito corrette indicazioni ed abbiamo informato con appositi manifesti dell'esaurimento di gel e mascherine. I rifornimenti avvengono ma non in maniera continuata. Nelle ultime ore, per esempio, le farmacie comunali hanno ricevuto 150 flaconcini di gel ma le richieste sono numerose e bastano poche ore per esaurirle. Del resto va sottolineato che è sufficiente lavarsi correttamente le mani per ridurre sensibilmente il rischio di contagi. Il direttore Balboni, tuttavia, al termine della telefonata, ha ribadito di aver affisso un manifesto nelle farmacie comunali derivante dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove viene spiegato che non esistono prove che dimostrino l'efficacia delle mascherine nel ridurre la trasmissione del virus in soggetti sani. Intanto una comunicazione perché le direzioni regionali di CNA e Confartigenato hanno diffuso una comunicazione unitaria in cui danno alcune indicazioni alle imprese sulla gestione dei dipendenti che hanno figli e che quindi sono in oggettiva difficoltà a seguito della chiusura di scuola e nidi. Questo è il testo della comunicazione. In relazione alla proroga della chiusura fino al prossimo 8 marzo delle scuole, anche scuole di infanzia e asili nido, ovviamente, si invitano le aziende, a seconda delle proprie disponibilità organizzative, a consentire ai propri dipendenti la gestione dei propri figli utilizzando permessi, rol, ferie, bancaori e cambi turno. Trattandosi di una situazione emergenziale chiediamo alle imprese di valutare la possibilità di accordare l'utilizzo degli istituti contrattuali sopraindicati, avendo particolare attenzione per i dipendenti che non possono ricorrere al sostegno familiare nella cura dei figli. Si invita altresì, laddove vi siano le condizioni, a ricorrere al lavoro agile. Gli uffici dell'associazione sono a disposizione per consulenza specifica. E parliamo del nuovo regolamento adottato in Consiglio Comunale a questo punto che rivede l'impianto delle politiche sociali in un'ottica solidale che valorizza le famiglie e il loro legame con il territorio. Così l'assessore alle politiche sociali Cristina Coletti ha spiegato le nuove norme utili alla formazione della graduatoria per chi fa domanda all'alloggio Acer nel comune di Ferrara. Promessa mantenuta, ha sottolineato il sindaco Alan Fabri, con il nuovo regolamento ripristiniamo una regola di equità sociale a favore dei ferraresi. Queste appunto le parole del primo cittadino, ma vediamo il servizio. Dalla residenzialità storica, il criterio che porta punteggio a chi da più tempo vive a Ferrara e ha contribuito con il proprio lavoro e di impegno a creare le fondamenta su cui si basa lo stesso welfare alla verifica dell'impossidenza di beni all'estero che prevede che la Giunta, con proprio successivo atto, specifichi le certificazioni che dovranno essere prodotte. E poi ancora un punteggio, anche per i nuclei da tre persone, prima esclusi dalla possibilità di accesso ad un maggior premio alle giovani coppie disponibili ad accettare l'assegnazione di un alloggio popolare che si trova nelle frazioni, per favorire così il popolamento delle stesse. Sono diverse le novità del nuovo regolamento sulle case popolari a Ferrara approvato in Consiglio Comunale lo scorso 2 marzo. Lo scopo è di promuovere l'equità sociale, fornendo nuove opportunità di assegnazione a più tipologie di famiglie, anche in considerazione del difficile periodo economico che necessita di risposte diversificate in materia di assegnazione delle risorse pubbliche secondo criteri che tengano in considerazione il legame con il territorio, ha sottolineato Cristina Coletti, assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara. Tra le nuove norme c'è il punteggio anche ai nuclei monogenitoriali e per i nuclei da tre componenti, prima esclusi per genitori, separati, divorziati, che abbiano l'affido anche condiviso dei figli. Il limite di età è stato innalzato da 35-40 anni in coerenza con i bandi predisposti della regione, mentre arriva anche il punteggio attribuito a nuclei di anziani o di anziani con minori o disabili a carico. Introdotto anche il requisito dell'incolpevolezza, non tutti gli sfratti per morosità saranno premiati a livello di punteggio, ma solo quelli in cui il mancato pagamento del canone di locazione ricada in caso di licenziamento, cassa integrazione, cessazione di attività, mancato rinnovo del contratto a termine, decesso o malattia di un componente del nucleo con conseguenze riduzioni del reddito. E poi è stata riconosciuta, separati, divorziati e a situazioni equiparate una specifica condizione di punteggio se devono rilasciare la casa entro 12 mesi dalla domanda della Casa Popolare. Una importante novità del regolamento è anche la presenza del punteggio negativo che prevede lo 0,05 per ogni 100 euro di morosità previsto per i richiedenti che abbiano maturato un debito nei confronti dell'amministrazione comunale o di ACER, in modo, dice la Giunta, da recuperare i crediti del comune a fronte dell'assegnazione di una prestazione sociale agevolata così importante come la Casa Popolare. Si concretizza un punto importante del nostro programma elettorale, sottolinea il sindaco Alan Fabri, con la residenzialità storica ripristiniamo una regola di equità sociale a favore dei ferraresi che hanno contribuito a far crescere la nostra città e a creare le basi su cui si fonde il welfare di cui tutti oggi disponiamo. Ha sottolineato il primo cittadino con i vecchi regolamenti, le ultime graduatorie hanno visto assegnazioni per il 50% a stranieri con una popolazione residente di stranieri che si ferma intorno al 10%. Lo squilibrio dunque era evidente, spiega il sindaco Alan Fabri, ed andava corretto. E arriva la risposta dei sindacati che vado a leggervi. I nuovi regolamenti per l'assegnazione degli alloggi ERP e per l'emergenza abitativa approvati ieri dal Consiglio Comunale di Ferrara lasceranno soli molti cittadini fragili, creando un danno per tutti. Questo è quello che determinerà la mia o per in corsa slogan vuoti come prima i ferraresi, di cui saranno vittime gli stessi ferraresi. E questa è dunque la posizione di CGL Cisle Will Ferrara sul nuovo regolamento delle case popolari, che aggiungono il punteggio illimitato per la residenzialità storica, a scapito della situazione familiare ed economica, per i sindacati crea ostacoli ai giovani che per questioni meramente anagrafiche non possono essere penalizzati dal mantra della residenzialità. Che cosa hanno a che fare gli anni trascorsi a Ferrara con l'emergenza? Sono tante le restrizioni con cui si cerca di limitare l'accesso al diritto a chi è in stato di emergenza, limitando di fatto la presa in carico da parte del Comune. L'eliminazione certosina e ossessiva delle relazioni sindacali, perfino della presenza del sindacato degli inquilini, cioè dell'unica voce del cittadino che prova a far valere un suo diritto in seno alla Commissione che esamina i ricorsi, è segno di una certa allergia di questa amministrazione e la trasparenza, ma non rinunceremo a far emergere e contrastare ogni struttura e danno per i cittadini che i regolamenti determineranno. Questo appunto è la conclusione dei sindacati. E parliamo anche del nuovo ponte dell'idrovia ferraresa fino al direro che arriverà a metà marzo. Lo comunica la Regione Emilia Romagna, la quale dà anche avviso dell'avvio dei necessari edempimenti per procedere con la posa della nuova struttura tramite l'impiego di apposite Gru. Lo scorso 24 febbraio è stata fatta la verifica dell'ultima azione dei lavori preliminari al varo del nuovo ponte provvisorio sul Po di Volano. Il cantiere, che è il secondo lotto, il primo stralcio nell'ambito dei lavori per l'idrovia, comprende anche la realizzazione dell'annessa viabilità di servizio. E ci spostiamo a questo punto alla delta dove la penisola di Boscoforte riaprirà ai visitatori. E' stata infatti siglata la Convenzione tra Parco e Privati per la fruizione dell'area naturalistica la cui riapertura sarà già inserita nel calendario di Primavera Slow. Vediamo. La penisola di Boscoforte riaprirà presto ai turisti. Il Comitato Esecutivo del Parco del Delta del Po ha infatti approvato nella seduta del 26 febbraio l'accordo biennale con la società proprietaria dell'area Bonifica Valli Meridionali di Comacchio SPA con l'obiettivo di riaprire i percorsi turistici pedonali. I percorsi saranno accessibili in modo contingentato e accompagnati da guida con l'obiettivo di non alterare l'equilibrio e il carattere di luogo incontaminato della penisola tra le aree umide più importanti e ricche di biodiversità del territorio del parco e inserita nella parte meridionale delle valli di Comacchio. Un ambiente unico per la vifauna, un luogo privilegiato per le specie migratrici estanziali più caratteristiche di tutto l'ambiente vallivo. L'accordo siglato prevede che la proprietà permetta l'accesso dei turisti nella parte di proprietà individuata dai piani vigenti, ne prevede la gestione delle aree e delle strutture garantendone l'accessibilità e la fruizione a scopo di turismo naturalistico, birdwatching e viewwatching nelle modalità stabilite dal parco. La società si impegna anche ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della penisola per garantire il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie oltre che la fruizione turistica del sito. In convenzione trovano spazio l'impegno dei privati a collaborare con l'ENT per scopi di ricerca, scientifici e divulgativi per l'individuazione di progetti e interventi di ripristino ambientale e per la valorizzazione delle risorse idriche nel complesso biologico del fiume Reno con l'obiettivo del miglioramento degli habitat esistenti. Il parco del Delta del Po offrirà attraverso sulla cooperativa Atlantide un servizio di accompagnamento e guida turistica sul percorso di Bosco Forte. L'ENT si impegnerà inoltre nell'attività di monitoraggio e sorveglianza nell'area partecipando alle eventuali spese per interventi di conservazione della biodiversità necessari per la tutela ambientale e la manutenzione. Una buona notizia insomma per gli amanti della natura e del birdwatching perché la riapertura di Bosco Forte sarà già inserita nel calendario di Primavera Slow. Una notizia legata all'ambito calcistico adesso perché domani mercoledì a mezzogiorno è convocata l'assemblea della Lega di Serie A nella sede del CONI a Roma. All'ordine del giorno la ratifica degli accordi intervenuti tra FIGC e Consiglio di Lega nel tardo pomeriggio di lunedì per quanto riguarda quello che potrebbe essere il nuovo calendario del massimo campionato e le gare rinviate in seguito ai decreti del governo inerenti provvedimenti legati alla diffondersi del coronavirus. L'intesa porterebbe al recupero di Sampdoria Verona questo sabato alle 20.45, Udinese Fiorentina domenica sempre alle 20.45 mentre per quello che interessano i ferraresi Parma Spal si giocherà o si giocherebbe perlomeno lunedì 9 febbraio alle 18.30 in concomitanza di Milan Genoa e Sassuolo Brescia mentre alle 20.45 l'appuntamento sarebbe con Juventus Inter. Intanto quindi di questo e di altro ne parleremo a match ma nell'ultima puntata di match ci siamo occupati anche delle conseguenze di chi lavora nel mondo dello spettacolo in questi giorni in cui molti eventi e concerti sono stati cancellati. Ce ne ha parlato in particolare il cantante ferravese Fili Grandini. Quello che riguarda l'ambito degli spettacoli secondo te? L'ambito degli spettacoli è una situazione molto nebulosa, molto particolare sicuramente questa settimana ci saranno ancora problemi perché comunque l'ordinanza è stata confermata e quindi purtroppo i locali a quanto pare se c'è musica dal vivo c'è più possibilità che ci sia molta più gente quindi credo che ancora questa settimana sia un'altra settimana di passione diciamo così visto che siamo anche in quaresma e purtroppo giusto o sbagliato che sia non mi ha dato saperlo quindi prendiamo su quello che ci dicono di fare. Purtroppo c'è tutto un indotto non soltanto per quanto riguarda la musica live nei locali ma anche i teatri e tutto quanto. Sui centri commerciali l'unica cosa è che proprio non ho protestato, non ho protestato, io avevo solo detto se tenete aperti i ristoranti e i pub perché non fate fare la musica dal vivo ma poi pensandoci posso anche capire che chi fa una determinata ordinanza non conosca il modo capillare cosa succede nei locali dove si fa musica dal vivo dove si fa per lo più sono quasi tutti un ristorante o pub dove ci sono poste sedere e un palcoscenico dove la gente suona e canta e non è che arriva l'assemblemento sempre in alcuni posti sì in alcuni posti no è ovvio non ci può essere la capillarità quindi si fa una cosa globale ovvio che uno nella mia condizione è come me ce ne sono altre centinaia di persone migliaia di persone in italia che hanno dei problemi per andare a suonare in questo momento si sentono un tantino frustrati dal fatto di rimanere a casa e vedere concerti che saltano continuamente. Speriamo che cambi qualcosa anche in questo ambito ma adesso prima di chiudere il nostro tv giornale vi ricordo che al termine su Telestense andrà in onda la prima puntata di escursioni nel delta del po il primo racconto di una serie di viaggi appunto che Telestense ha realizzato insieme alle guide del consorzio po delta tourism nel meraviglioso territorio del parco del delta del po alla scoperta di borghi itinerari e prelibatezze gastronomiche tutto questo alle 20.05 mentre vi ricordo che alle 20.30 seguirà progetto comacchio e alle 22.30 primo piano con la mostra di palazzo diamanti denitis e la rivoluzione dello sguardo con questo è tutto come sempre vi segnalo anche il nostro sito telestense.it e i nostri spazi social Telestense la trovate su facebook su twitter e su youtube grazie dunque per averci seguito a tutti l'augurio di una buona serata